A Santa Chiara è anche un posto molto bello, il fatto che sia un posto bello in un'area molto suggestiva di Siena è importante perché per la creatività, l'innovazione, il dialogo fra saperi, per poter promuovere incontri, per promuovere contaminazione stare in un posto gradevole, lo direi anche bello, è sicuramente utile. Allora siamo orgogliosi che qui abbiamo una struttura molto funzionale, molto ben definita ma anche con delle opere d'arte che possiamo vedere anche alle nostre pareti perché tutto contribuisce a fare a Santa Chiara un posto ottimale per lavorare, per stare insieme, per il dialogo.